e ciao a tutti bentornati sul mio canale pesca ita oggi siamo un po nello spazio dello scorso il nuovo video al secondo lancio un po nello spazio di l'amore Secondo lancio, non male Si, sarà un... Quanto sarà papà? Un agro, si Piccolino, rilascio Secondo lancio C'è un altro B, sembra C'è un altro B Ma io? Quale è? No Un po' sta accadendo una quattro E' un altro B, sembra E' un altro B, sembra Sono fuori Non c'è un altro B Non c'è un altro B Ma è così Se l'eco sotto quasi Ma non è pronto Ma non è tanto però E con questo qua lo rilasciamo così Eccolo qua Eccolo qua, rilascio Perfetto C'è, sembra bello Com'è? Com'è? Lucro Molto In meno In questo caso è un paulato come fa? dai forse entro quali grossi eh sì 400 mezzo tiro quasi eh non è male ok sì sì mezzo tiro si si allora in piano si è for mezzo tiro eh ma no si 400 ma se non è possibile 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 ho un nudo qua in da in da and fin in in da come se ne va in vede in 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 Alla prossima 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 Alla prossima